Un artista deve essere in grado di dare al suo pubblico quello che più lo soddisfa e fare in modo che questo combaci con quello che sente da dentro, così nasce un grande e bellissimo disco, Sfera e Basta c'è riuscito, devo essere sincero, complimenti, maturo nel linguaggio, maturo nelle sue regole. Sfera è un disco dove chi comunque conosce Sfera, che tra l'altro non sempre con i dischi è riuscito a confermarsi, magari a livello di numero, ma l'ultimo disco non è che ha fatto proprio tutti i contenti e invece con questo qui secondo me non ci sta nulla da dire, non ci sta nulla da aggiungere. Ha portato quello che voleva portare e con dei fit tutti azzeccati, c'è Tedua che ti dà l'intimità in quella traccia, ti dà la nostalgia, ti dà il passato, ti dà la visione. Sfera diventa padre e io conosco mio padre e poi c'è una visione che non è solo quella del passato o del futuro, è quella del presente che è il futuro prossimo, cioè che quando ci sono le storie, per esempio la storia di uno che non ha conosciuto il padre e poi lo conosce, e cosa accade dopo? Come ci si sente dopo per entrambi? C'è un vuoto comunque, cosa c'è dopo il lieto fine? Quindi grande Tedua. Nella traccia invece con Da Supreme e Tony, ad esempio, c'è quell'effetto 2016, però moderno allo stesso tempo. Da Supreme, che insomma con Charlie Charles la produzione ha dato un qualcosa che riguarda entrambi, sia le Sfera e Basta che Da Supreme, e ci hanno veramente sguazzato, c'è da dire, è la canzone magari più fluida del disco, quella che a me è piaciuta di meno perché a me non piace sto genere, però comunque apprezzo, così come c'è Gue, Sfera gli ha dato un grande assist a Gue di fare una strofa in esercizio di stile ma da capo proprio, cioè quando poi fa le rime in cui riprende figure importanti per chi ha frequentato un certo mood come Marco Carola in Pazzisco, e comunque Gue ha sempre creduto in Sfera, quindi è anche un modo di omaggiarlo mettendolo in quella traccia, in quel disco, facendogli fare le doppie in Vida Loca, Vida Loca dove ci sono le parole di Jake, ma c'è Sfera che le canta praticamente portando il suo concetto, nel senso quando c'è oltre al campione la citazione, è Gue che fa la doppia e questo è un gioco, mi sembra tipo Wish Warrior dei Pink Floyd dove si parla di Sid Barrett ma non c'è Sid Barrett, ma se si parla invece del featuring con Marrakesh, dobbiamo continuare su questo filone, 15 piani, il disco sembra finito e invece no, c'è Marra, c'è proprio lui che ti fa una strofa toccante, toccante, è importante che le nuove generazioni, i giovanissimi che ascoltano Sfera e che conoscono Marra ma magari sono più in fissa con Sfera e abbiano la possibilità di ascoltare il rap fatto bene, il rap quello toccante, quelle strofe che arrivavano nelle tracce e che ci hanno conquistato, che hanno portato persone come me, amanti del genere, con i pantaloni calati fin dalle medie a spingere questa roba contro un mondo che diceva, che non la prendeva sul serio quando per noi era poesia, ci vuole la poesia perché non basta lo stile, serve la poesia, non ci siamo battuti per la poesia del rap, ed è bello che questo disco ne ha veramente parecchi sprazzi, è uno storytelling, quello di Marra, doloroso, leggero allo stesso tempo, ti colpisce e tu ti lasci colpire, vabbè Anna spietata, è da tutto, lei ci tiene a spaccare, lei va sulla traccia e dice io la spacco, questo ha imparato a fare, questo fa, funziona tantissimo, soprattutto per lei che è così funzionale a livello di videocamera, cioè lei proprio funziona, tu la vedi, una ragazza e ti spacca peggio di un uomo, di un uomo, sei di un uomo, questo è proprio quasi sicuro, è un uomo in faccia, e vabbè Vidaloga mi ha crepato il campione, proprio mi ha crepato, mi ha distrutto, Giulieri che un po' di Gomora ci sta bene, Elodie, Traccione, ho detto Elodie, ma come l'ascolto col cazzo, Traccione, ma ragazzi mi piace perché Sfera, tornando a lui, si sforza in ogni modo di essere melodico originale, anche al limite dell'esasperazione, lui che non è un tenore, però comunque settando il suo autotune a suo modo si mette là e cerca sempre di sperimentare, ma allo stesso tempo di essere melodico, e ti offre questo spettacolo, compare a un certo punto Shiva, che sembra proprio parlare dal carcere, anche questa roba, ha un'altra pesantezza sulla traccia, se parliamo di credibilità, adesso lui parla di Pistole, dopo abbiamo visto proprio il video materiale di lui che spara, ha un'altra pesantezza, non voglio fare discorsi morali, ma voglio parlare di un disco che ha un suo mood, un concept album, che è una cosa che nessuno fa, è il degno erede, è la degna parte 2 di Per Davvero, siamo riusciti a salvarci, questo è il messaggio, un messaggio bellissimo, perché io per la prima volta vedo un prodotto che usa la retorica della strada, con il dovuto distacco, come se ci stesse dentro, è come se cercasse di dare voce allo sfera prima del successo, allo sfera che per necessità e virtù stava in strada, non come un delinquente, non come un criminale, semplicemente a sopravvivere alla vita, a sopravvivere a se stesso, come un adolescente, ed è come se parlasse lui con la testa di oggi, il cuore di allora, la testa di oggi, e riuscire a trattare la tematica strada quasi dando un'educazione, nel senso, lui non fa morali come magari faccio io, che tratto la tematica e voglio dare un insegnamento, lui dà l'insegnamento, semplicemente perché tu lo percepisci che lui non ha più a che fare con questa roba, in qualche modo, una roba distante, che comunque gli appartiene, anche solo a livello di mood, ma c'è un cuore pulsante che sta da un'altra parte, che si rende conto anche che è andata bene così, perché ci siamo salvati, perché quella roba lì non è bella, è bello sentir dire da un artista, oh mia madre puliva le case, come quando sentiamo da Marrakesh, ma porco Giuda, che costo che ha per l'artista, che ha avuto per l'artista, non è che uno dice, ok, mo mando mia madre a pulire le case e così ci faccio la canzone, no, l'hai vissuto, e poi hai fatto il musicista grazie a quelle mancanze, cioè, questo album sì che è un cult, con tutto il rispetto, lo sapete, per me no, it's narcos, è un alto livello rispetto a Sfera, io non, cioè, io, lo sapete, la trap a me fa schifo, ma questo è un cult trap, lo riconosci subito, è una versione matura di un disco che già ai tempi non riuscivamo a capire, perché quando uscì per davvero tutti l'abbiamo apprezzato, tutti quanti, anche i criticoni, anche, cioè, io che ero proprio old school più totale, per me non esisteva questa roba, ma nonostante ideologicamente lo contrario, solo per Sfera riuscivo a convertirmi, solo nei momenti in cui ascoltavo lui, e questo album sì che è un cazzo di cult, un cult di trap che chiude un'era, perché con che coraggio tutti i vari cloni, tutta la gente che segue questo filone, con che coraggio adesso fate la vostra merda trap? Sfera con questo disco ha fatto, secondo me, il miglior disco della sua carriera, proprio perché, anche se magari ce ne sono alcuni che sotto certi punti di vista sono inarrivabili, tipo se prendiamo quello di, quello del grande successo, ma mi ricordo, quello dopo per davvero, comunque, è un disco che se lo vediamo dal punto di vista pop, cioè a tutte hit, il primo per davvero lo dobbiamo vedere da un punto di vista dell'innovazione, questo lo dobbiamo mettere al primo posto, come disco che chiude un ciclo, dopo questo disco non si deve fare più musica trap, secondo me, avanti i prossimi, avanti il nuovo genere, avanti il futuro, per me questo disco segna la fine, ho fatto una serie sull'hip hop, si chiama Perché l'hip hop? L'evoluzione dell'hip hop in Italia, otto episodi, l'ultimo parlo proprio della trap, della fine, sollevando non poche critiche, e dico, adesso non lo so a che punto siamo, forse c'è Rove, mentre facevo, adesso siamo lui, e forse l'ultimo che segue questo filone, che ha avuto un grande successo, Rove, e quanto è durato? Cioè non so che numeri fa, è durato il tempo di una canzone, poi va avanti, ok? Per carità, la sua carriera continuerà a incassare, ma Sfera ha dimostrato che cosa vuol dire essere il numero uno, e ha chiuso un ciclo, ha aperto il ciclo della trap, lo chiude questa notte, finito. Chiunque fa un pezzo trap che non è perlomeno introspettivo, dopo questa notte è un pagliaccio, ed è stato bravo Sfera perché è riuscito a raccontare se stesso, completamente, è un disco intimo, un disco sincero, un disco doloroso, ma allo stesso tempo leggero, trap appunto, bella Sfera cazzo, mi hai sorpreso, mi hai stupito, ti rispetto, ti ho sempre rispettato, l'ho sempre detto, anche se magari i tuoi contenuti per me a volte sono fuori di testa, ma tu hai dettato le regole di questo gioco, e in questo gioco giochi meglio di chiunque altro, quindi complimenti. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita, e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.